È davvero un piacere conoscere Massimiliano Cagnato. Parliamo dell'evoluzione del portiere che mi sembra significativa, soprattutto negli ultimi anni. Sì, sicuramente hai centrato. Io ho avuto l'opportunità di fare il portiere 30 anni fa, quando ancora il ruolo era un po' più romantico, un po' più tecnico, un po' più raffinato. Si lavorava tantissimo sulla tecnica specifica del portiere. Ora è cambiato, è cambiato sostanzialmente, perché il portiere è un giocatore di movimento a tutti gli effetti. Costruisce gioco, la profondità di intervento specifica. Prima il portiere era limitato ai 5,50 della sua area, l'area del portiere. Adesso la profondità di intervento è superiore, parliamo di 25-28 metri fuori dalla porta. Deve avere anche i piedi buoni, soprattutto. Sì, ahimè, io non li avevo buoni, assolutamente. Come ti dicevo ad inizio, io purtroppo quando nel 92 è cambiata questa regola, la regola del retropassaggio, che il portiere non poteva più... la regola Zoff, perché Zoff nell'82 ci ha fatto vincere il mondiale con questa regola, che recuperava la palla e la teneva quei 20 secondi perché giocava con il Brasile e con l'Argentina, non era semplice. No, da quando è cambiata quella regola io ho avuto grosse difficoltà, ma perché? Perché nel settore giovanile, ahimè, si lavorava molto e tanto sulla tecnica specifica, sui fondamentali, si lavorava meno con i piedi. Sì, è cambiato proprio. Adesso anche la ricerca dello scout del portiere viene fatto su altri aspetti. Intanto la struttura fisica, non tutti i portieri che arrivano intorno al metro e 90, ma portieri bravi e abili, ripeto, a riconoscere la superiorità numerica e a scegliere il giocatore libero e la giocata migliore. Onana nell'esempio. Molte volte però si vede il portiere, proprio per questa specificità che è cambiata negli anni, magari toccare più palloni rispetto a un regista. È un po' una cosa anomala. Guarda, è una domanda pertinente la tua, perché c'è un'analisi dei mondiali del 2018 in Russia, su 5.660 gestualità tecniche il 70% sono effettuate con i piedi. Quindi la dice lunga questa cosa su quello che è il ruolo del portiere e su quanto a livello di settore giovanile bisogna già iniziare a investire in quella direzione. In Italia siamo un po' in ritardo. In Spagna lo fanno da qualche anno, in Belgio lo fanno da qualche anno e in Olanda lo fanno dai tempi di Joan Cruyff. Questa per te è la prima esperienza a Pescara, mi pare la Gladius. Purtroppo sì, poi il lockdown, se no sarei partito tre anni fa come ho fatto in altre academy, poi il lockdown purtroppo ci ha rallentati. Che realtà hai conosciuto? Bella, preparata, pronta, attenta. Io ne giro parecchie di academy, non sono in Italia, anche in Europa. È l'approccio che conta, vedi che le persone hanno interesse, hanno voglia, hanno desiderio, ti ascoltano, ti fanno domande. C'è cura, c'è attenzione, c'è voglia di crescere. Tu hai un ruolo importante nell'academy perché sei responsabile dei portieri del Milan, però i tuoi trascorsi iniziali sono dall'altra parte. Sì, vabbè, conosciamo il punto di partenza, il punto di arrivo. Ahimè, per fortuna non lo conosce nessuno. Sono felicissimo di essere in questa società anche perché è forse la società che è cresciuta maggiormente a livello di espressione tecnica e tattica di gioco negli ultimi due anni. Questo è innegabile. Noi vediamo giocare in Milan e ci innamoriamo. Vediamo altre gare, vediamo altre partite, un pochettino meno. Quindi sono realmente orgoglioso del percorso che sto facendo in questa società. Però insomma il passato Inter rimane anche nel... Sì, rimane, il passato non è mai negare. È stato molto lontano. Sì, rimane, sono cresciuto nei giovanini dell'Inter, non ho mai esordito in prima squadra con l'Inter, ho fatto un po' di panchine. L'unico rammarico, diciamo. Sì, è un rammarico perché speravo di poter esordire in età verde, ma così non è stato. Ho fatto un altro percorso e ho avuto poi la fortuna e un pizzico di capacità e di anche così, passami il termine, di stranezza, di particolarità, perché il nostro è un ruolo particolare per poter andare avanti. Ho avuto qualche vicissitudine ma ho reagito nel modo giusto. Sei stato alle dipendenze di Giovanni... Sono già dovevo arrivare. Sei stato alle dipendenze di Giovanni Galeone che qui a Pescara, come tu sai, ha vergato pagine assolutamente indimenticabili. 94-95 se non vado errato a Udine, vinceste il campionato, c'era anche Carnevale in quella squadra. Sì, Carnevale, Scarchilli, Calori, Bertotto, Pierini e tanti altri, Fausto Pizzi. Una grossa squadra che fino a quel momento dell'avvicendamento con Adriano Fedele da parte di Giovanni Galeone è che vorrei salutare e abbracciare, è un po' che non lo vedo. Fino a quel momento era una squadra in grosse difficoltà. Se posso raccontarti un aneddoto... Lui fu presentato un mercoledì, al solito un mercoledì si fa l'allenamento doppio, no? E noi eravamo nei dispogliatori ad aspettare l'arrivo del nuovo allenatore, non sapevamo chi fosse, anche se si vociferava. Arriva Giovanni, si presenta, lo salutiamo, già con il sorriso. Noi avevamo la testa bassa ma man mano che passava il tempo che lui parlava vedevo gli occhi dei miei compagni, il sorriso, gli occhi che brillavano e alla fine di tutto Giovanni ci guarda e ci fa ma vi siete guardati, avete visto il livello qualitativo della vostra squadra? Oggi è mercoledì ci dovrebbe essere l'allenamento doppio andatevi a fare un giro in centro, sereni, che il campionato lo vinciamo. Alla fine ha avuto ragione lui, no? Sbaglio? Abbiamo vinto il campionato. Lui aveva il coraggio di mettere in campo degli attaccanti veri non attaccanti che avessero solo ed esclusivamente gli esterni compiti in fase difensiva ma no, i suoi attaccavano, proponevano gioco e producevano gioco. Vincemmo il campionato, veramente fu una cavalcata incredibile e ci divertimmo tanto perché Giovanni ha questa grossa capacità quella di far star bene i calciatori e se un calciatore sta bene rende esponenzialmente. Non ha ottenuto quello che meritava dal calcio, io ne sono convintissimo forse perché era troppo avanti e non era compreso. Grazie Massimiliano, soprattutto per questo aneddoto come no, anche perché tra un paio di settimane tornerà in Abruzzo a Francavilla, a Pescara. Ok, grazie, abbracciatelo. Un abbraccio a tutti voi, grazie.